È precipitato da 9 metri di altezza probabilmente la scorsa notte, forse durante il tentativo di rubare il rame dai corniciuli di un'azienda chiusa per fallimento, Ospedaletto Uganeo. A trovare il corpo senza vita di un 51enne di Este è stato un fabbro, entrato nello stabilimento della Betton Rapid poco dopo le 10. Immediato è scattato l'allarme sul posto i sanitari del 118 i carabinieri di Este. Per il 51enne, già noto alle forze dell'ordine, non c'era più nulla da fare. Sulla tragedia stanno indagando i militari chiamati a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo perché si trovasse sul tetto della fabbrica e se fosse solo. Secondo i militari la morte potrebbe essere di natura accidentale nel tentativo di tagliare dei cavi di rame. A stabilire le cause esatte del decesso sarà l'autopsia.